Il video di Alessandro Non ho parlato di questo quando stavi a fare un film? No! Questo film fanno delle persone? No, 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 no! È giocante per me. È davvero giocante. Tutti i produttori non vogliono più fare un film con me perché avevano paura Al tribunale ha fatto venire un attore che dice, è vivo, lo vedi, è vivo. Io sto parlando con il cuore. Perché fai così? È la verda!